Anche in questa puntata detto tra noi vi porta in viaggio dove nei territori dei Nahako siamo negli Stati Uniti andiamo a visitare i parchi dell'Ovest lo facciamo attraverso gli scatti di un bravissimo professionista lui esperto appunto di foto e di viaggi ha girato in lungo il largo è il mondo e noi siamo anche un po invidiosi però porta questa sua esperienza alle nostre telecamere e noi gli saremo perennemente grati Gianni Parola Troppo gentile nella presentazione grazie mille No siamo in estate tempo di viaggi allora incominciamo a sognare un po' un viaggio diciamolo non molto impegnativo perché credo sia alla portata di tutti quello degli Stati Uniti parchi dell'Ovest in particolare Sì è uno dei viaggi classici che come dire imperdibili per chi vuole e ama viaggiare perché vedi dei paesaggi di natura che sono unici quindi assolutamente imperdibile Allora intanto diciamo la lunghezza ideale per effettuare questo viaggio che va da A Allora il viaggio che abbiamo effettuato si può fare in tante maniere il viaggio che abbiamo effettuato noi siamo partiti da Phoenix abbiamo fatto quindi Arizona, Utah e California Il viaggio è durato una quindicina di giorni fatto con delle auto quindi spostandosi autonomamente eravamo un gruppettino di una quindicina di persone e poi l'ultima tratta Las Vegas San Francisco in aereo Un periodo giusto E qui i paesaggi sono veramente venuti incontro all'obiettivo no? Il paesaggio sì, gli Stati Uniti sono il paese dei grandi paesaggi infiniti e quindi è un mondo completamente diverso esistono gli Stati Uniti delle città come New York, come San Francisco, come Chicago che sono un mondo e poi gli Stati Uniti dei parchi o comunque della natura che è esuberante in tutto Noi adesso incominciamo a sfogliare questo album fotografico e intanto sul monitor vediamo anche qualche scatto e questo è il Grand Canyon, un mito straordinario Incredibile perché pertanto che tu l'abbia visto in televisione manca il fiato quando lo vedi nella sua grandiosità I colori del Grand Canyon cambiano no? Seconda proprio dell'ora della giornata Sì, sempre all'alba e al tramonto, soprattutto al tramonto ci sono dei punti dove si possono vedere dei colori rossi forti perché è una terra molto forte con il contrasto del verde che è veramente molto bello, assolutamente Chissà che caldo in estate L'estate fa molto caldo e soprattutto nella parte dell'Arizona e dell'Ojuta fa molto molto caldo però è un caldo secco quindi irresistibile poi si finisce in California, San Francisco dove invece fa in genere freddo Questo non è il Grand Canyon? No, quello è l'Orsu Bend, è praticamente un'ansa del Colorado e si vede vicino al lago Powell arrivando con la macchina un quarto d'ora prima di arrivare al Lake Powell si vede questa ansa molto fotografata e molto famosa del Grand Canyon Ecco, tra l'altro su Lake Powell si può navigare perché ci sono questi boat appositi dove trascorri anche la notte Sì, in genere ci sono di questi loggio molto semplici ma efficienti lungo il lago è un lago artificiale creato da una diga e ovviamente ci sono escursioni in barca sia autonome sia di gruppo che ti portano a visitare il lago E qui ci vediamo, ecco, lo scenario di ombre rosse, no? Tipico del West Ah, questa è la Monument Valley, un posto, questo forse è il posto più bello, io sono partito con grandi aspettative nei confronti del Grand Canyon e di tutti i parchi ma questo è quello che mi ha toccato di più perché ovunque ti giri sei dentro un film e aspetti il rumore degli indiani e i cavalli che arrivano, è incredibile questa roccia qua sembra un elefante, è incredibile questo posto Ecco, ma a che ora sono state scattate queste foto? Tardo pomeriggio, dalle 4 alle 5 e poi noi siamo rimasti fino a tardi, fino al tramonto perché è imperdibile il tramonto, infatti c'è tantissima gente e l'ultima parte del pomeriggio l'abbiamo passata facendo un'escursione che consiglio a tutti, molto bello, un'escursione con il Navaco sono gli indiani perché questo è un territorio navaco, è una riserva ancora privata, cioè data agli indiani come territorio e loro organizzano dei tour con delle jeep dove ti portano al di fuori dall'itinerario comune o comunque quello che puoi fare con la tua macchina perché all'interno della Monument vai con la tua macchina se arrivi, poi ci sono dei posti dove non puoi andare e ti portano solo loro quei fuori strada Ecco, questo popolo vive in una cartolina praticamente? Vivono in una cartolina, non è una vita molto facile perché comunque vivono in perenne contrasto tra quelle che sono le loro origini e la loro cultura e le difficoltà del mondo moderno, insomma, quindi non penso che sia facile per un Navaco vivere però sicuramente ha una grande storia E adesso parliamo anche delle città fantasma, quelle dove un tempo si rifugiavano, andavano i cercatori d'oro Esatto, sono chiamate Ghost Town perché sono state ovviamente abbandonate Alcune di queste sono state riprese a livello turistico, quelle un po' più facili da raggiungere e il primo giorno noi siamo arrivati a Phoenix, abbiamo voluto assorbire il viaggio di praticamente 20 ore e un bel po' di fuso orario, mi pare 9 ore e abbiamo dedicato le visite comode intorno alla città e torno a Ghost Town ci sono queste città fantasma dove gli americani organizzano anche dei tour all'interno delle vecchie miniere e poi delle sparatorie finte, un po' le cose, un'americanata Un'americanata? Un'americanata perché il termine è giusto, ci sta tutto Agli americani non si può insegnare nulla, anzi sono loro che devono insegnare a noi compreso il giro sull'Hirley Davidson, il mito? Il giro non c'era, io ho visto un gruppo di donne con l'Hirley Davidson che sono andato a farmi una foto ma io sono un motociclista un po' quindi ero attratto Ecco, e qui scorriamo ancora la mitica, la Route 66 Nel viaggio abbiamo attraversato la 66 a Flagstaff e quindi la 66 è quella strada che parte da Chicago e arriva fino a Los Angeles e come dire, è la strada mitica, una rotta mitica di una volta e ancora adesso quando la attraversi ci sono tutti i cartelli, puoi fermarti, farle foto, guardare È lunghissima dunque, quanti chilometri più o meno? Non ne ho idea, sarà 2000-3000, non ne ho idea, direi una stupidaggine, però è molto lunga Ma c'è ancora gente che ovviamente la percorre tutta anche se mi dicevano in ogni caso sono cambiati un po' gli scenari nel corso degli anni Dunque, io non l'ho percorsa tutta per cui ho un'esperienza molto limitata diciamo che ormai con le highway, quindi le autostrade, la gente si sposta lì sopra ci sono però motociclisti o persone un po' romantiche che fanno proprio la vecchia strada ripercorrendola tutta e ci sono anche itinerari turistici che ti fanno passare in tutti i luoghi storici della 66 Abbiamo detto che non dobbiamo insegnare nulla agli americani da un punto di vista turistico Vabbè, poi insomma qui abbiamo di nuovo il Grand Canyon, questa bellezza naturale straordinaria qui abbiamo detto appunto il lago Powell Che colori, ma che colori! Eh sì, perché poi verso il tramonte è bellissimo Veramente Questo è il parco degli archi Qui siamo sui parchi nazionali E questo è il Bryce Canyon che è un'altra piccola chicca, assolutamente È più piccolo del Grand Canyon ma colpisce di più Ecco, ma sono tutti visitabili questi parchi o c'è ancora qualche angolo, chiamiamolo così, incontaminato? Perché io mi immagino comunque le fiumane di persone Dunque, le persone ce ne sono tantissime Perché la stagione poi soprattutto per i parchi è abbastanza ridotta Perché in queste zone nella parte invernale nevica e molte strade sono chiuse Però i parchi sono talmente grandi e l'organizzazione è prettamente americana Cioè precisa, è tutto, come dire, tutto che gira perfettamente Per cui quando entri all'interno dei parchi ci sono queste case dove ci sono i loro, come si dice, i guardi a parco E ti danno tutte le informazioni turistiche per muoverti, per girarli, per farla Ti chiedono, hai bisogno di mezza giornata, un giorno, due giorni e ti danno esattamente cosa puoi visitare Quindi è molto semplice, gente ce n'è tanta E questa è la Disneyland, possiamo dirlo, del gioco Las Vegas È l'unica città al mondo in cui se non la vedi non puoi capire che cosa c'è Perché non mi ricordo più in quale albergo La Tour Eiffel, voglio dire, poi avevamo anche l'Empire State Building, no? Quindi sembra di essere, così, sembra di essere arrivati a Venezia, ecco E non niente nelle città d'arte È il business del falso I cinesi pensavano di aver iniziato a copiare, invece gli americani l'hanno fatto prima È una città unica Non so cosa dire di più Bisogna vederla per capire che cosa c'è all'interno Basta solo pensare che ci sono alcuni alberghi in cui la reception penso sia il terzo o il quarto piano Perché prima sono tutti piani di slot machine o cravoli da gioco, cose di questo genere Passaggio obbligato Passaggio obbligato, cioè loro interessa poco che tu vada a dormire L'importante è che passi all'interno di questi enormi saloni Ovviamente si viene tentati, immagino Eh sì, assolutamente, non puoi farne a meno San Francisco, un'altra meta straordinaria Ecco, quali sono le difficoltà di fotografare una grande città? Fotografare una grande città bisogna avere tempo Perché i punti di vista ce ne sono tantissimi e bisogna scegliere quelli che funzionano Cioè quando tu sei in un parco, quando sei al Grand Canyon, al Brace Canyon Sai già che ci sono alcuni punti classici che è più facile da fotografare Il paesaggio è quello e lo puoi vedere da destra o da sinistra ma quello rimane Magari vai al tramonto, all'alba ma quello è La città invece è tantissimi luoghi, tantissimi posti, tantissimi angoli e quindi differenze di vedute Allora se hai del tempo riesci a fare delle cose più belle Altrimenti vengono ma è più difficile perché devi correre molto di più Questo è lo skyline, no? Questo è lo skyline, sì, che si vede facendo il Golden Gate, passi dall'altra parte del Golden Gate San Francisco è bellissima, ricorda un po' alcune città europee come modalità di vita Questa è Alcatraz che è visitabile, l'ex carcere dove hanno girato anche il famoso film Fuga da Alcatraz È una città molto bella e soprattutto è una città ancora piccolina, a misura d'uomo Quindi si riesce a girare in maniera individuale, autonoma senza impazzire Il colore sì ma per un fotografo che si rispetti il bianco e nero è sempre d'obbligo Qui abbiamo anche una nebbiolina, cos'è? Ah quella è la nebbia del Golden Gate, quella lì c'è penso 300 giorni su 365 dicono che c'è la nebbia E effettivamente c'è quasi sempre Beh molto suggestiva devo dire E qui? Ah qui siamo sempre a San Francisco Qui sì, è il Pier 39, la parte del porto che è stato tutto ristrutturato, i docks del porto Ed è diventato un grande centro turistico di attrazione, molto bello, vivo, con tutto Voi in questo viaggio avete abbinato la parte naturalistica alla modernità più assoluta? Quando vai a vedere i parchi è difficile fare solo parchi perché comunque è bello un po' di alternanza Allora l'abbiamo fatto muovendoci, non con un pulvo ma con delle auto Quindi ho diviso il gruppo in 5-6 guidatori e abbiamo preso delle auto perché secondo me è più bello avere l'autonomia dell'auto Non hai bisogno di fare lunghi trasferimenti con una guida che ti spieghi perché è molto natura E il contrasto natura-città è molto bello Poi andare in California e non vedere San Francisco è un peccato quindi non puoi non vederla Ecco dicevamo il bianco e nero no? Sull'album ci sono parecchi scatti E perché a me piace, adesso con le macchine digitali si scatta solo a colori poi le devi trasformare in bianco e nero Però il fascino del bianco e nero è sempre bello, a me piace molto Il tram quanto l'hai aspettato? Poco, immagino No, questo qua è un tram che ormai viene utilizzato quasi solo per i turisti Il classico tram a cremagliera perché ha questa cremagliera sotto che lo tira su per le vie Quando siamo arrivati lì abbiamo aspettato un quarto d'ora, venti minuti perché era il momento topico Quindi c'era una marea di turisti che volevano prendere il tram Ma anche noi abbiamo fatto la doverosa coda Va bene, siamo atterrati, siamo di nuovo qua Siamo finito il giro, questi 15 giorni sono passati davvero in maniera molto molto veloce 15 giorni bastano per vedere tutto questo? 15 giorni bastano per vederlo bene senza impazzire o correre come fanno alcuni tour che ti fanno fare 400 km al giorno E' chiaro che nell'Ove si può tornare ancora una volta per fare i parchi che ci sono più a nord Dallo Yellowstone all'Osemiti e altre cose Mi mancavano bubu yogi in effetti La prossima volta La prossima volta facciamo bubu yogi E poi ci sono ancora le sequoie giganti da vedere Certo, a nord di San Francisco Ma lì in giornata da San Francisco si riescono a vedere Si va Si va Il periodo migliore per andare a visitare i parchi dell'Ovest? Giugno, luglio, agosto, settembre Sono i quattro mesi caldi dove è secco e si sta bene Considerando che a San Francisco freddo fa sempre anche se si è al mare Poi arriva la neve, grande fascino ma è molto più difficile spostarsi Allora grazie per averci fatto viaggiare anche questa settimana Alla prossima Grazie mille a voi, grazie